Si parla tanto di prodotti tipici, eccellenze locali, ma forse non tutti i molisani conoscono vino, olio, salumi, confetture, formaggi e tanti altri prodotti realizzati proprio nella loro regione. Una terra baciata da Dio, per usare le parole dello chef Bobo, riminese di nascita, ma ormai trapiantato qui da 40 anni, dove ogni lunedì si dedica un viaggio all'interno del Molise, alla scoperta di profumi e sapori autentici, andando a scovare produttori che lavorano le materie prime come una volta. Proprio dalla passione di Bobo, attento, conoscitore delle eccellenze molisane, che è nata in collaborazione con l'amministrazione comunale, sua eccellenza all'enogastronomia molisana, una rassegna che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto ogni venerdì dell'estate, dalle 18 alle 22. 15 gli stand dove i produttori presenteranno, offriranno degustazione e venderanno olio, vino, salumi, formaggi, marmellate e tanto altro ancora. Tipicità del cuore della nostra regione, profumi e sapori unici che diventano eccellenze per il Molise. Il sindaco Angelo Sbrocca ha spiegato che da tempo l'amministrazione pensava a un evento che promuovesse l'enogastronomia locale. I nostri prodotti rappresentano una nicchia di mercato, sono tutti prodotti di eccellenza, ha spiegato Sbrocca, e noi abbiamo il compito di farli conoscere. Anche i bambini andrebbero rieducati a questo tipo di sapori genuini, ha aggiunto il sindaco. La rassegna si ripeterà dunque ogni venerdì, per tutta la durata dell'estate. La rassegna si ripeterà dunque ogni venerdì, per tutta la durata dell'estate.